... Carici fra le stelle, una novità di quest'anno è l'anteprima che si tiene questa sera in Piazza Castello. Anteprima, stiamo per dare inizio a questo incontro, tra qualche istante vi saranno quattro vignerons, due vignerons storici, vignerons vignaioli, usiamo il termine italiano, due della nuova generazione, un'idea di confronto e assolutamente un'idea di scambio. Le due generazioni che hanno fatto la storia dell'erbaluce e non solo, una famiglia storica come quella di Orsolani, uno dei primi produttori in assoluto, fin dagli inizi del secolo scorso con la osteria di famiglia, e qua abbiamo Francesco Orsolani e Remo Falconieri, dello storico CEC prima di Aglie, ora di San Giorgio, che ha insieme a Orsolani, sono i due che hanno dato l'astura al lavoro del metodo classico dell'erbaluce, non solo, hanno portato l'erbaluce nel mondo. Oltre ottantenni, entrambi attivi ancora in vigna, entrambi ancora molto attivi in azienda, non potrebbe essere altrimenti, sono due padri di questo mondo. Insieme a Vittorio Garda, che è un giovane enologo e vignaiolo canavesano e porediese, lavora per la cantina cooperativa della Serra, e da un anno ha fatto partire la sua piccolissima azienda di Carema, Il Sorpasso. Sono i giovani che ci credono, trentenni. Poi abbiamo Giorgio Gnavi, della cantina Gnavi Carlo, il passito storico per eccellenza. Giorgio, biologo, ricercatore, entra in azienda con lo zio e insieme, uno dalla parte produttiva, uno dalla parte del mercato, stanno portando Gnavi in tutto il mondo. Per cui ascolteremo delle belle storie e soprattutto mi piacerebbe che al termine di questi incontri, questo è il secondo praticamente, il primo, vi ricordate, lo abbiamo fatto durante il cinquantennale della Doc Erbaluce al Castello di Parella, c'erano tutti, c'era anche Ferrando, c'era Renato Bianco, c'era Gnavi lo zio, che probabilmente arriverà anche adesso, per un commento. Poi abbiamo anche una cantina alla diese che è Massoglia, fino a un anno fa c'erano tre generazioni, adesso c'è Marino con i figli, i figli sono assolutamente operativi, hanno in mano l'azienda, Marino si occupa ovviamente, lavora in vigna, lavora in azienda, ma si occupa del mercato, quindi ascolteremo anche le loro impressioni. Sono realtà ognuna diversa dall'altra, filosofie in alcuni casi simili, in alcuni casi obbligatoriamente differenti e mi piacerebbe che la gente, ascoltando queste storie, si innamorasse ancora di più del nostro territorio, che ha un fiore all'occhiello, la prima doc piemontese del 67 Erbaluce, poi anche il Carema ovviamente, l'ADOCG bianca che accompagna il Barolo nel mondo, questo grazie alla nostra presidente di consorzio, la Catrina Andorno. Sono delle realtà che soprattutto i canavesani devono scoprire, ed è per questo che questo format di incontri, spero di ripeterlo spesso e volentieri in tutto il canavese, perché sono i canavesani che si devono innamorare di quello che è il vino, che al mondo è stramalettamente conosciuto, vince premi internazionali, non solo nazionali, ma internazionali, e i canavesani fanno un po' di fatica, bevono ancora degli altri vini, ed è una lunga storia. Comunque un'anteprima, molto bello, perché l'amministrazione comunale di Aglie, il buon Marco Succio e i suoi collaboratori hanno proprio avuto l'idea di aumentare l'impatto culturale di Calici tra le stelle. Se parliamo di gusto della cultura, cultura del gusto, perché non incominciare ad ampliare gli appuntamenti? Un esperimento che immaginiamo andrà molto bene, sta arrivando un sacco di gente interessata, stiamo per iniziare, e poi faremo un bel brindisi con i prodotti del territorio e con i vini di questi produttori. L'appuntamento poi è domani, e domani, se ci state guardando su questa meravigliosa testata territoriale, io vi invito domani, sabato 14 luglio, a togliere tutti gli appuntamenti in agenda e a raggiungerci ad Aglie. Due passi dall'uscita sulla Torino-Aosta a San Giorgio, venite ad Aglie nel piazzale, in Piazza Castello, perché se non siete mai venuti sarà l'inizio di un grande amore. Vi accogliamo a casa, ma vi accogliamo con tantissima qualità e tantissima bellezza, sia nei contenuti che umana.